Buonasera a tutti e scusate l'interruzione. Pasanissi, devo fare un comunicato importante. Oh, prego, Ministro, questo è un canale libero. Faccio come fosse a casa sua, prego. Il 2 giugno venite tutti all'Indifest 2011. Oh, Ministro, ci sorprende, come mai tutto questo interesse per il rock indipendente italiano? Perché sicuramente qualche comunista e sovversivo avrà in mente di fare qualche sciopero generale o qualche festa. E quindi, ragazzi, non andate lì e venite tutti all'Indifest, altrimenti siamo fottuti. Ecco, immaginavo, era troppo bello per essere vero. Senta, Ministro, è sì un canale libero il mio, però dopo queste affermazioni sono costretto a spegnere il microfono. Le dispiace se continuo io lo spot dell'Indifest? Bravo, 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 il solito gatto comunista, bravo! Rieccoci a noi amici, vi presentiamo l'Indifest 2011. 2 giugno 2011. Villa con Camarco, Vernole, Lecce. Con Tyne Tiffany. A Toys Orchestra. Studio Davoli. Miranda. Psyco Sun. Psyco Sun. Play on Game. Tears of Joy. The Grandest Club. A DJ set di Nine Names. Untied of. A music that we love. Dalle 16 alle 3 di notte. Musica non stop. Stay tuned. Scusate, mi sfuggivano. Scusatemi ma... Avevo dimenticato di inserire... The Metropolitans. E Euro. Touch the sky for a day. Ingresso 7 euro. Prevendita biglietti sul sito www.bookingshow.com Ok, ora possiamo finalmente dire... Stay tuned.